Voi fate il filmato, io faccio il cinema quando scena. C'eravamo visti a fare sull'agito Maurizio, c'era anche la Rossana. Vieni qua, Genia. Vieni qua, Paolo. Vieni qua. Cos'è che me lo riesco? Eh, insomma, è uno che fa poco oscillare, Paolo. E' un po' pesante e un po' crostosa. Si, si, si. Vai, vai, Sonia. No, no, non filmarmi, eh. Vieni qua. Si fa prendere un po' il timore. Eh, faccio, faccio. Eh, cosa fa? No, da tenerli, ma lei se lo dice sempre, però... Le piace. Ma lei è una che... Le bambine, sai, nell'agonistica partono le sette. A lei è un po' pesante e un po' crostosa, eh. Si, si. Non vedo... Cazzo, al mondo sono io che mi inganno, cacchio. Ma, finisci, pensavo... Che roba! Questo è il punto più freddo, però. Si. Come siamo su un dossetto che butta su un po' di aria... gelida. Adesso qua... ... 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